musica ma tu vai da estetista? io no no adesso gli ho faticolo alla meta che io sempre una volta ogni due mesi e queste sono le cose che volete sapere sulla niki e la sabre ma adesso è qui con noi diamo il benvenuto ad amico.andre per l'occasione cioè vuoi parlare nel tuo canale? cos'è sta pazzia? non ero stato informato tu dici una mela al giorno io dico una toglie il medico di torno? si dai ande fin qui tutto da tagliare posso? ah grazie beh ciao ma secondo me è un po' buio un po' buio vero ma fatti un cazzo chi è che lo devi ditare? tu non so vuoi fare? è ditare vai facciamo ma sabre indovina che ci sono push up dopo mi dico una cosa divertente ok ma dilla scusa perché? vai vai sono andata a comprare un costume oggi un po' erotico no 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 e la tipa mi fa cosa ti do? una seconda? guarda che c'è c'ho il push up allora l'ha voluto toccare ha voluto toccare che push up era per farmi non è che era una malintenzionata non so è subito un po' e che hai parlato la prima che negozio? si possono mandare i curriculum? ma l'hai preso prima push up almeno eeeh cioè non c'era voi fateci sapere la taglia del vostro reggiseno quindi se vedrete una tavola da sole farmare è la Nicole ma non è vero ma voi ragazze siete belle anche con le da te anche tu lo eri esatto quindi adesso non è che devi contarti tanto però non si sentiva bella lei eeeh eeeh ricordatevi hai capito? aiuto ricordatevi che è importante piacere a voi stessi e non agli altri tu lo sai che se avessi avuto un figlio sarebbe morto ma hai tirato una ginocchiata non ti dico dove dove? ahhh dito nel culo ahahah oh mi piace deja ahh ahahah ahahah ma dai ti ridi dai dai andre bellissimo il tuo video il tuo tuo codice che avrà detto nel culo andre quando esce questo dai raga basta basta veramente no ma fate pure no ah eeh con le crocs 2021 avete lo sconto di 15 euro se le prossime non puoi entrare andrea che bella sopra e ciglia certo che hai detto che ho i capelli sporchi ma guarda te cioè stasera ci condisco l'insalata wow codice sconto pantenne nikki 92 mai tantissime avete chiesto che shampoo sto usando ma come facevano a sapere che aveva i capelli puliti si vedeva già non l'ho mai detto che in tantissime l'hanno chiesto no no probabilmente mi eravate già accorti che uso questa crema hashtag andrea come fa ad accorgersi che cosa? perchè avevo messo una storia in cui avevo ah non perchè la pelle era diversa ma guarda che era la borraccia guarda che ha fatto così anche c'era la borraccia beh questo video chiudiamolo qui e lo facciamo un altro ho i crampi i crampi beh i crampi sono quelli tipo di... basta basta veramente è un po' buio è un po' buio andrea mi sa di si rifacciamolo un po' con più luce che salame era quello che c'era in frigo? salame salame normale quello che costa tipo 3 euro secondo me è perchè io prendo uno che si chiama salamettotino ed è molto buono come si chiama? tottino? salamettino? salamettotino 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 salametto staccatotino ah vai andre scusa il tuo video no andre dai non fare complimenti fai pure ma non me la sento sinceramente adesso dai ah facciamo faccia strana adesso vai ma quindi che video è questo? proverbi faccio strana dei proverbi proverbi ok tanto quella ragazza allardo mi si è levato il braccialetto beh un uomo al giorno leva il medico di torno raga dovete sapere che ho messo tipo le cavigliere togli sto piede guarda dei piedi carini che ho dai togli ho dei piedi carini no sembri una di 10 anni al mare ma cosa c'entra? anche non al mare vero anche non al mare ma qua come ti tagli quelle unghie? esatto beh non lo so scarnifica a cerchio così ma non piace non è un po' buio? ma non ce la puoi mettere dopo non possiamo saltare qui povero andre mi spiace vero anche a me mi spiace cosa sei tu che stai facendo tutto facciamo un minuto di silenzio per andre che non riesci mai a fare i video dai ok io posso mettere il braccialetto io ci devo essere appunto non capisco la mia utilità in questi video veramente vuoi pubblicare questa roba? scissi ma perfetto schifo mi va se oggi proviamo la ferricitrice ad aria? ferricitrice non so dirlo bene ancora temporaneamente andre posso salutare la tua mamma? il tuo piede mi sta toccando il mio piede sai cosa mi risponderebbe se gli scrivessi c'è un rosa come stai? ok ok e il pollice è un minuto di silenzio veramente velocissimo comunque fate voi ok attaccato la c'è la tua ok perfetto senti dritta adesso posso cominciare il video dita del culo è buio posso fare l'ultima domanda poi cominciamo il video cosa mangiamo stase? volevo ho comprato la ferricitrice ad aria e volevo provarla cosa mangi? aria fredda? no io andrei al ristorante che ne dite di andare a fredda? ma non ha detto che vuoi cioè porti la ferricitrice al ristorante ho cambiato idea in quella pausa andiamo a quello dell'antonella? no perché non mangia pesce l'altra volta ho potuto mangiare insalatine ma c'è assolutamente niente non mangia pesce ma io sto qui tanto che aspettiamo a papà che arrivo quindi quando è partito? non è ancora partito se non arriverebbe prima ordiniamo e facciamo arrivare a casa bella idea ordiniamo il tuo padre e ci porta lui da mangiare vero cucina in camper mentre vieni qua è pure un altro video sentite? no non devo scorreggiare no non deve ahhh minuto di silenzio per le ossa di nikki basta però questo cosa stia facendo? a me no eh va bene ma strano faccio così infatti con le ginocchia nooo l'altro ma li hai fatti tu o lano questi? ecco fatto gli altri 6 minuti sappiamo come riempirli cremi cremi psss è sorda vieni da me abbracciami e fammi sentire che no raga mettiamoci d'accordo mettiamoci d'accordo non avevi capito che erano le vibrazioni mettiamoci d'accordo su quanto vogliamo ancora ruminare questo video fatecelo sapere voi con un commento andiamo al ristorante andiamo al ristorante andiamo al ristorante ma lo posso ah perchè tu vuoi andare al pesce è una peccatrice come fa usando con la pasta burro è buono al pesce sai tipo il gampiero andiamo giorno al pesce vi ripeto voi potete andare intanto io sto qui a aspettarmi qua mentre voi andate a portare il cane no perchè se stai qua andiamo prima a portare il cane e poi ci andiamo insieme ma volete andare con la mia mini? sii che salutiamo? ciao signora chi? oh signore no ma aspetta lui di te ovvio ok facciamo una simulazione di essere facciamo finta di essere in macchina ok io guido eh io sto dietro ahahah non dire se facciamo l'incidente se facciamo l'incidente muore c'è il conducente aspetta aspetta è un po' buio vedere? è scuro vai non dì che sei in macchina piano piano ce lo sto no aspetta devi aprire la portiera devo salire ah già ma perchè ha fatto bisogno la vibrazione ah si porta via il volante no te le devo fare giusto è stata colunce ok aspetta che salgo eh ah ma voi siete già su si non ero una macchina che ti aspettavamo niki puoi accendere la capa sulle finestrini che autovettura sei? a gbzzzzzzzz io ho anche la gbzzzzzz io ho anche la gbzzzz dietro si infatti vedi che hai ventato le capelli si anch'io vai aspetta vuoi dire qualcosa ahahah niki non vorrei disturbare niki vai piano perchè fatti scombola la macchina ok come si sta sulla mia mini? tengo la testa un po' fuori la finestra anche io ma ho detto come si sta si sta come d'autunno adesso adesso basta ha rotto la mini basta non voglio più guidare ma sai fare il tuo medio così? adesso ho fatto il dito no ma senti pure niki tanto voi sapete fare il tuo medio con i piedi io si ma puoi ci vai a lavare le mani santo dio che te l'ha toccato a tutti l'angolo ti evitato ancora si si ti dosso e io ero più dietro ero un pullman sei sul modello superiore andrea non stai collaborando nel tuo video però andrea se non vuoi guidare vuoi mettertelo come con l'anna bello facciamo un momento talk dove parliamo di argomenti interessanti posso fare un'ultima domanda? prego dove mangiamo? scegli andrea ok facciamo su questo facciamo finta di essere in un salotto televisivo dove un politichiamo eccetera ok andrea tu sei quello che presenta tu presenta io sono quello in collegamento a forum perchè a lui piacciono le vecchie girati che facciamolo con i te io a forum tu fai il giudice santi le chiri io sono in collegamento esterno perchè ti grazie? ma girati allora tu sei il giudice ma no per così ma siete sul bob e no maria tu gli devi dare i soldi perchè è l'eredità non te la vuoi prendere andrea sei giudice devi presentare presenta vai qui 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 qua qua ora la storia tra qui ora la storia tra e no improvvisa e no improvvisa come lo chiamate incominciamo il video mi spiace dai vero però mi spiace anche sapere che cosa c'è non facciamo no che non sappiamo che non sappiamo che cosa facciamo stasera ma lui è felice sai perchè? perchè adesso tra poco noi stoppiamo e iniziamo subito così lui ha due video ma io vado a mangiare dopo ma cosa è vero ma cosa è vero non lo so cosa è vero dai andrea ci siamo d'accordo però si allora a 100 like mangiamo gli hamburger a 200 like mangiamo la pizza a 300 like mangiamo il pesce fateci vedere non ho capito come è andata a finire la causa di forum a tutto questo perchè a lui piacciono le vecchie le vecchie l'avete visto? no se no avremmo reagito in qualche modo ah e allora cavolo allora che è andrea quello che guarda è tiktok no ma guarda quanti peli che dicevano averli e sono due mesi che non li faccio ma ci becca ma adesso in due mesi li crescono così vorrei far vedere in due mesi cosa mi son cresciuto cresciuti cosa mi son cresciuto non sei cresciuto niente bene questo video può continuare aspetta devo farvi vedere un'altra cosa guarda i cani bubiii buuuubiii infatti allora non vedono niente di quello che sta succedendo buuuubiii facciamo questa non è brava buuuubiii buuuubiii stendi i panni stendi i panni bobo 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 stendi i panni stendi i panni bobo 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 asciuga il sole asciuga asciuga il sole asciuga chi la vuole la bella verdura chi la vuole la bella verdura bau 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 capisco cosa provi andale lo sto capendo 14 beh qua ci siamo eh altri due minuti e faccio uscire due video allora 8 16 wow vi leggo delle citazioni adesso no no vuole il vangelo no pica mi sa che ti non ti sei pulito il culo cosa hai chiamato prima si può essere grazie per essere stati in nostra compagnia questo video può concludersi qui è diventata toscana ma che la si mangia la fiolettina dai andiamo a mangiare il pesce faccio un attimo uno spettacolo di burazino Ale ti fai fare la pasta al burro ci 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 sono una banana ma guarda quanto salta quel cane Ale non ti fai la pasta al burro ma io voglio dire che io vorrei mangiare a casa mentre voi andate a fare qualcosa devi staccarlo questo cordone però pica devi staccarlo un po' ma quanto è bello con quella cordone madonna dove puoi adesso qualcuno deve dire qualcosa o posso chiudere? no fin quando ci mettiamo la corda per cena tu chiudi il video esatto signorino andiamo adesso stoppiamo il video possiamo lasciarlo lì andiamo portiamo gogo ci sta prima di cena ci sta ma anche per tutti poi arriva anche suo papà ma mia papà viene dopo cena viene dopo cena mio papà dai nel video non c'era che l'ho detto ripartiamo dall'inizio col video così lo dico fin dall'inizio e allora non puoi venire anche tu quando arrivi andiamo qua ascolti un secondo sto per favore andrea ci stai ci stai frenando col tuo video scusa noi stiamo buttando creatività e tu non toppa che facciamo indovina la canzone che poi andiamo ah non erano i proverbi? no ma non era mima il proverbi? no raga non era indovina la canzone che fa i proverbi ma come si chiama la canzone che fa? l'erba dai vicino è sempre più buona si però dai andrea ma di qualcosa nel video spero che questo video vi sia piaciuto si io adoro fare questi video e la canzone no io non lo so sei top della palestra sai perchè sei top grazie e niente alla prossima ciao 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 amo ciao amo amo amio ape in centro amo sprizzettino vado ah vai in macchina vai in macchina vai in macchina beh non sto a fare niente